Ricordo che durante un'intervista mi disse che fu lei a convincere Morrigone a girare, a comporre la colonna sonora di Headful Eight per Tarantino e si è affidato a lei anche in questo caso. Che ricordi ha di questi due eventi molto distinti ma che però mostrano la fiducia che il maestro aveva per lei e ha sempre avuto? Beh, dire che sia stato io a convincerlo è un po' eccessivo, però era successo un paio di volte che Morrigone aveva dovuto dire no a Tarantino perché stava facendo un fin con me. Poi una terza volta Ennio disse di no perché non si sentiva ma non era a causa mia. Allora io cercai di spronarlo, gli disse Ennio tre volte no a un regista, sembra quasi un fatto personale, io fossi in te prendere in considerazione la cosa, un peccato, poi sarebbe un bell'incontro e quindi riuscì in qualche maniera a insinuare un dubbio nella sua mente. Allora lui si convince e gli chiese di leggere la sceneggiatura, adesso la sceneggiatura è decisa di fare il film e io in qualche maniera ne fui felice perché mi sono sentito in piccola misura anche artefice di questo sospirato sì a Tarantino. E anche l'Oscar poi è arrivato. Anche l'Oscar. Invece crede che questo momento in cui con la pandemia stanno cambiando tantissime cose può essere terreno fertile per una nuova sperimentazione cinematografica, per portare di più gli spettatori al cinema? Il linguaggio cinematografico è sempre portato a cercare di superare gli ostacoli, è tipico del linguaggio cinematografico e quindi anche la condizione in cui ci si trova da anni a vivere, sicuramente avrà acceso nella gente che fa il cinema tante idee di sperimentazione che magari nascono come superamento di certi ostacoli e poi invece diventano un allargamento degli orizzonti, dei vari modi di applicazione del linguaggio audiovisivo. Quindi il cinema in realtà procede sempre, non arretra mai.